Musica Francesco Lomonaco, il suo blog è cupido.it, innamorarsi in rete. Secondo te Francesco è necessario avere una conoscenza specifica della rete e di tutte le sue potenzialità per poter partecipare a un barcamp? La domanda è molto semplice, il barcamp è proprio un evento nella quale soprattutto ci si accosta chi non ha specifiche conoscenze. Nella fattispecie appunto i blog e anche il mio sito internet cupido.it è molto semplice da usare, non richiede alcuna conoscenza specifica. E quindi chiunque può entrare dal ragazzino che conosce qualsiasi cosa di internet a chi si accosta per la prima volta su internet e vuol cercare qualcosa. Credo che sia una delle tante potenzialità che questi eventi sicuramente danno e ci consentono appunto di poterci proporre in maniera semplice ad un pubblico sempre più vasto. Musica Musica